Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Caio e Orge. Come sempre vi chiedo di presentare voi e la vostra testata e di fare una domanda a testa. Iniziamo con Juventus TV, Enrico Zambruno. Ciao, buongiorno. Enrico Zambruno, Juventus TV. Negli ultimi mesi, da febbraio a fine stagione, hai giocato 28 partite e segnato 8 gol tra competizioni brasiliane e soprattutto Copa Libertadores, che è un'ottima media. Che cosa ti aspetti da questa esperienza alla Juve? Grazie. Buongiorno a tutti. Parlerò in portoghese e brasiliano, dopo parlare in italiano. Sono venuto qui per fare un'ottima stagione. Qui so che giocherò con grandissimi giocatori, grandissimi giocatori giganti in Europa. E sono qui perché voglio imparare, voglio divertirmi, voglio imparare tutto ciò che è possibile imparare. E nella mia posizione, diciamo che sono qui per imparare e cercare di lottare per fare quanti più gol possibili. E voglio comportarmi al meglio con i miei compagni. Buongiorno Caio, faccio una domanda in portoghese. Sono lei in Sports Brasil. Innanzitutto, benvenuta a Torino. Non è una cosa tanto comune che ci siano giocatori così giovani nella Juventus. Tu sei arrivato direttamente al Brasile, quindi quali sono le tue aspettative? Quale sarà la cosa più difficile a livello di adattamento con una squadra italiana? Innanzitutto, la Juve è sempre stato un sogno per me. Sono felicissimo di essere qui. È il risultato di grandissimi sforzi, grandissimi lavori. Tantissimo lavoro personale. Sono contentissimo di essere qui. E secondo me l'adattamento sarà molto molto importante, soprattutto con i miei compagni, con i giocatori. Anche Cristiano, ad esempio, mi dà tantissimi consigli. Ovviamente so che qui siamo in Europa. Il calcio è importantissimo qui. E voglio dare il mio meglio, ogni giorno, giorno per giorno, sul campo e fuori. Ciao, Romero Agressi, gol.com. Ti chiedo se è vero che hai chiesto espressamente alla Juventus di arrivare subito a Torino per evitare che il Santos ti perdesse a zero. Quindi una sorta di riconoscimento verso il club che ti ha lanciato nel grande calcio. Grazie. Ti chiedo se è vero che hai chiesto espressamente alla Juventus di prendersi subito per evitare che andassi via a zero e quindi che il Santos non prendesse soldi. Grazie. Allora, per quanto riguarda questa questione, diciamo che il Santos è il club che mi ha fatto crescere, fa parte del mio cuore. E per lo sport sappiamo che è importante, quindi non potevo dimenticarmi del Santos in questa situazione così difficile del Santos. Quindi diciamo che c'è stato un buon senso, un senso comune nell'accordo che c'è stato tra i due club. Ciao Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport. Volevo chiederti come ti racconteresti al tifoso della Juventus, cioè che tipo di giocatore sei, che ruoli puoi ricoprire, cercare di farti conoscere. Diciamo che sono un giocatore molto mobile, ho una grande facilità nei passaggi, fuori centrarea, mi connetto bene con i miei colleghi, i miei compagni e voglio essere qui alla Juventus appunto per fare del mio meglio. Io volevo chiederti se c'è un giocatore, un grande attaccante della Juventus del passato a cui ti ispiri. Grazie. Diciamo che la Juventus è sempre stato un sogno, come ho già detto, che San Ronaldo chiaramente è sempre stato un'ispirazione, è un grandissimo giocatore che è San Ronaldo, quindi lui è sicuramente una grande ispirazione. Sarò con lui giorno dopo giorno vicino a lui e vedremo, spero di imparare tanto. Paola Ghemo di Sky Sport, ciao, benvenuto Caio. In parte hai già risposto perché volevo chiederti di Cristiano Ronaldo, te lo chiedo lo stesso, se in questi giorni visto che parlate la stessa lingua, insomma vi siete parlati, ti ha raccontato qualcosa, come l'hai visto, anche perché poi oggi si è fermato durante l'allenamento e come stai tu soprattutto che hai avuto questo problema muscolare? Diciamo che è da un po' di tempo sì che mi frequento per così dire con Cristiano Ronaldo e quindi nei giorni che ci siamo visti mi ha aiutato, è una persona fantastica, si impara molto da lui, sul campo ma anche fuori e lui è sempre il primissimo che arriva, mi saluta, facciamo, lui è il primo che si allena sempre e comunque e sono contentissimo di essere accanto a lui, è una persona incredibile e io sono accanto a lui con la Juventus, una squadra per qui mancano sinonimi, non mi ha detto niente del suo futuro, non sappiamo se rimarrà o meno, io spero sinceramente che rimanga, ma io sono concentrato su quello che farò con la Juventus, spero con lui, spero per tanto tempo. Buongiorno, sono Domenico Marchese del Quotidiano La Repubblica, lei ha firmato un contratto plurinale, arriva da un calcio molto diverso da quello italiano, da quello europeo, ci sarà un periodo di adattamento, ma alla fine di questo primo anno si riterrà soddisfatto in che condizioni, cioè a che cosa punta nella sua prima stagione in bianco-nero? Grazie. Innanzitutto mi voglio ambientare, in questi primi momenti, questi primissimi giorni, nella seconda settimana che ormai sono qui a Torino, ho visto una cosa, qui c'è una parte molto tecnica, tanta preparazione, c'è tanto lavoro dietro, è una cosa che vedo tutti i giorni e sicuramente qui tutto andrà per il meglio, ne sono sicuro. Ciao Giovanni Albanese, Sport Italia, volevo chiederti se c'è qualcosa della struttura Juventus che ti ha colpito favorevolmente in questo primo periodo e chi sono stati i riferimenti anche in dirigenza, oltre che compagni di squadra e oltre a Cristiano, come hai detto. Grazie. C'è una persona in particolare, diciamo però che mi ha impressionato tutta la struttura della Juventus, la struttura della Juventus come un tutt'uno, la preparazione dei giocatori, tutte le persone che qui danno proprio il meglio ogni giorno, sono stati tutti quanti gentilissimi, educatissimi, mi hanno accolto nel migliore di modi e mi sto trovando benissimo e spero di poter dare un aiuto concreto a tutti loro anche e ricevere aiuto per fare del mio meglio, sono molto molto felice. Buongiorno Caio, Nicola Gallo, Gruppo Mediapason, volevo chiedere oltre a Ronaldo se c'è stato un idolo d'infanzia che ha ispirato la tua carriera o se è stato solo Ronaldo il giocatore a cui tu sei ispirato e anche il rapporto con Mister Allegri al tuo arrivo, qual è stato? come vi siete conosciuti, cosa ti ha detto? Cristiano Ronaldo, chiaramente sì, è sempre stato un fenomeno, è un fenomeno, potrei non parlare di lui, ma ho visto tantissimi video di lui, di Cristiano Ronaldo su YouTube ed è stata una specie di palestra per me e per quanto riguarda Allegri è una persona simpaticissima con cui mi trovo molto a mio agio, negli allenamenti e molto concentrato e sono molto contento che sarei lì per aiutarmi negli allenamenti e non solo. Ciao, Giorno Codenino da Stampa, volevo chiederti perché hai scelto il numero 21 che nella Juventus come tu ben saprai è un numero molto importante e visto che arrivi dal Santos ovviamente i riferimenti storici da Pele a Neymar si sono già sprecati, ecco volevo chiederti soprattutto con Neymar che esempio ti hai dato e cosa speri di poter raccogliere anche dalla sua eredità. Grazie. Allora, per quanto riguarda il numero 21 l'ho scelto perché sono stati grandi i giocatori quelli da Juventus che hanno usato questo numero, Pirlo, Zidane, Dybala, Higuain. Per me quindi è una grandissima gioia avere questo numero sulla maglia. Per quanto riguarda Neymar ho parlato con lui qualche tempo fa e anche lui ha detto che sì è felicissimo che io possa giocare con una squadra come la Juventus e quindi non ho avuto dubbi che la Juventus sarebbe stato un grandissimo club per crescere come giocatore ma anche come persona. Ciao, buongiorno, Fabio Riva del Tutto Sport. Mi ha incuriosito poco fa, hai detto dei video che hai guardato di Ronaldo e ti vorrei chiedere se sapendo di venire alla Juventus hai iniziato anche a studiare un po' guardando appunto video di Ronaldo ma anche altri, se c'è qualche partita in particolare che hai seguito, qualche giocatore, qualche movimento che hai guardato e anche perché sognavi proprio la Juventus visto che poco fa hai detto questo. Grazie mille. Vediamo. Fino a due o tre ore fa prima di venire qui ho visto, ho indovinato un po', video di Cristiano Ronaldo. È sempre stato un sogno che ho avuto fin da bambino, lo vedevo, non so, mi mancano le parole proprio per dirlo. Sono qui, giocherò con Cristiano Ronaldo. Una squadra meravigliosa, sono felicissimo ancora una volta di essere un membro della Juventus, ovviamente ci sono altri giocatori che amero tantissimo, pensiamo a Dybala ad esempio, anche Dybala è estremamente un grande aiuto. Tutti i giocatori qui sono come dei partner, proprio aiutano, parlano tutti quanti con me, anche Chiellini, una persona davvero esemplare, davvero. Spero di poter imparare il più possibile ogni giorno. Le ultime due domande, grazie. Buongiorno Cavio, Filippo Monsignore Corriere dello Sport, volevo chiederti come stai dopo l'infortunio quando pensi di tornare a disposizione. Purtroppo sappiamo che c'è stata questa lesione qualche giorno fa, lunedì, mi stavo allenando, sono stato in quarantena appunto per gli accertamenti e purtroppo lunedì ho sentito questa lesione. Non è una cosa grave, tornerò molto presto e quindi tornerò presto e sarò al mio meglio. Abbiamo di nuovo eSports Brasil, per quanto riguarda la Champions League, sappiamo tutti quanti che la chiamano un menino di oro, il ragazzo d'oro, adesso lei gioca con la Juventus, ha sognato la Champions League? Ovviamente non voglio raccontare menzogne, sì ho sempre sognato la Champions League ma io ero molto lontano, sono arrivato qua, poi due o tre mesi fa veramente ho iniziato a desiderare di giocare con una grande squadra europea, un sogno che si sta realizzando. Volevo proprio questa maglia, la maglia della Juventus e spero di poter dare il mio meglio qui. Grazie a tutti, invito sul palco Federico Cherubini e Maurizio Rivabene per la foto di Rito con la Maglia. Grazie a tutti.